Ciao, oggi ci troviamo a Milano in via Berengario davanti a un'opera d'arte visibile a tutti dalla forma particolare. Il cuore di City Life, tra i tanti e bellissimi edifici della zona, si trova una villa a forma di castello, Castello Pozzi. L'edificio fu costruito agli inizi del Novecento, più precisamente nel 1929, per conto di Claudio Tridenti Pozzi. Dopo essere stato commesso, Pozzi apre l'omonimo negozio di abbigliamento, oggi spazio espositivo nel cuore di City Life. Castello Pozzi nacque come desiderio di quella che si può considerare una delle più eminenti figure imprenditoriali minanesi. Davanti alla facciata anteriore si resta stupiti per l'enorme castello di carte. La gran installazione è opera di Rinaldo Denti, proprietario del castello, e di Elio Fiorucci, il noto stilista, e si presenta come un suggestivo e colorito tocco d'arte in mezzo al grigio del cittadino. Durante la sera, le carte dei disegni barocchi, in perfetto stile Fiorucci, si illuminano grazie a divertenti Giacal Neon, che rendono il panorama ancora più entusiasmante. In un'altra area del castello spicca un'altra installazione di grandi dimensioni, tre cavalli di legno. Infatti, si affacciano con il muso al di fuori delle sepi della villa. Si tratta di una riproduzione della scultura di Giuliano Grittini, ispirata al genio di Leonardo da Vinci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.